La fotografia scattata dalla nostra intelligence è chiara, aumenta il numero di migranti che tenta la traversata del Mediterraneo per raggiungere irregolarmente l'Italia. Partono da Libia, Tunisia, Turchia e nell'ultimo anno anche dal Libano. L'instabilità politica e la crisi economica sociale di questi paesi hanno determinato il fiorire di un notevole numero di piccoli gruppi criminali che si sono dedicati attivamente alla gestione dei traffici clandestini di esseri umani. E poi il nemico che si combatte da anni, il terrorismo islamico. Una mutazione quasi genetica che ha portato nel tempo a delegare sempre di più le azioni terroristiche attraverso una propaganda sul web. Le minacce alla sicurezza, dicono gli 007, non hanno più confini e la conferma arriva anche dal conflitto russo-ucraino. Non vi è più una nozione di ordine mondiale, non c'è più il pluralismo, il bipolarismo o l'unica superpotenza, ma un mondo privo di centralità e che quindi è in continua trasformazione. Grazie. 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 Grazie.